Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, benvenuti e bentrovati. Oggi presentiamo un prodotto molto importante in arrivo in Italia proprio in questi giorni. Prezzi significativi, due versioni, entrambi con display molto generosi ma con alcune differenze. Noi proviamo il prodotto migliore, ovvero Galaxy Note 20 Ultra 5G. 21 agosto, data dell'esordio del nuovo Galaxy Note 20 Ultra 5G ma anche della versione normale. Forse la mia preferita, vi devo dire, per ingombri e anche per alcune delle sue finiture. Guardiamo però l'Ultra nel suo display gigantesco da 6,9 pollici. Dentro la confezione, oltre al caricatore rapido, abbiamo il cavo per la ricarica e per la trasmissione dei dati e poi le cuffiette con connettore USB Type-C. È qualcosa che tra l'altro riceviamo solo noi perché ad esempio altri paesi non vedranno questo particolare. Confezione che tutto sommato è nella norma, non ci sono cover all'interno. E poi ovviamente il principe di questa scatola è il telefono. Allora, eccolo nelle mie mani. Nei giorni scorsi abbiamo già visto il video hands-on. È inutile che stia a riempirvi di, insomma, dettagli che riguardano le caratteristiche tecniche che ben conoscevano l'esperienza d'uso di questo dispositivo con un display Fluid AMOLED che arriva fino a 120 Hz di refresh rate. In questo caso addirittura con una diagonale da 6,9 pollici. La parte posteriore con questa fotocamera davvero generosa sono quasi 6 cm e 3 cm su questo lato con uno spessore di questo blocco delle fotocamere veramente generoso. Pensate che le fotocamere hanno un ingombro così importante che è stato necessario spostare anche il pennino. Quello che di solito veniva messo sul lato destro guardandolo del telefono è stato spostato invece dalla parte opposta. Devo dire che quando impugno il telefono la forza dell'abitudine mi porta sempre a premere in questa posizione forse anche perché qui c'è l'ingombro della mano per cui o uso il telefono con la mano opposta oppure devo cominciare ad abituarmi. Però, insomma, aspetto molto bello. Finitura con questo Mystic Bronze opaca che evita di avere le ditate. La copertura tra l'altro con il nuovo Gorilla Glass Vectus quindi dovrebbe essere indistruttibile. Io non lo butterò per terra, ve lo dico. Ma, insomma, devo dire che su fronte proprio della dotazione tecnica questo si presenta come telefono da fuori classe. Ma quali sono gli aspetti positivi e quali quelli negativi? Parto subito da cosa mi piace. Il dettaglio ovviamente del display Fluid AMOLED con una leggibilità impressionante e soprattutto con una luminosità che è mostruosa. Io, confesso, non riesco a vedere la differenza tra un 120 Hz e un 90 Hz perché non uso tanto i giochi, quindi non ho quel genere di sensibilità. Però so che questo è un display che conferma la tradizione di Samsung veramente notevole. Quindi sicuramente mi piace il display, mi piace tantissimo la qualità della fotocamera perché sono stati risolti i problemi di messa a punto, di messa a fuoco del Galaxy S20 e la qualità delle immagini è veramente superlativa. Ne parliamo dopo. Cosa non mi piace? Eh, qui ci sono alcune cose che non mi piacciono. Allora, sicuramente questo, l'ho accennato anche all'inizio, questa dimensione gigantesca del blocco delle fotocamere. E poi l'altra cosa che però non mi piace, sono sincero, è il fatto che questo sia un telefono che si scalda veramente tantissimo. Quando fa delle operazioni come girare dei video, in particolare quando usate il formato 8K, devo dire che il surriscaldamento è veramente notevole. Partiamo dunque nei dettagli dal display, che vediamo insieme, 6,9 pollici, lui ha un sistema adattivo per cui usa 120 Hz di refresh rate quando è il caso di farlo a un angolo di lettura, di visione, che è semplicemente eccellente. E come detto c'è la copertura anche del nuovo Gorilla Glass Vectus. Non ci sono grandi novità per quanto riguarda, diciamo, l'interfaccia. Questa è la nuova interfaccia 2.5 One UI 2.5, ma diciamo che rimaniamo ancora nello standard che avevamo conosciuto anche con i precedenti telefoni di Samsung. Quindi direi display ottimo, ottima leggibilità, interfaccia e software, quello che conosciamo ormai molto bene. Le funzioni telefoniche di Galaxy Note 20 vanno alla grande, qualità audio in conversazione notevole, ovviamente c'è il supporto per il voice HD. Abbiamo tutto quello che dovrebbe avere un telefono di questa generazione, compreso il Wi-Fi 6. Quindi sul fronte delle funzioni di connessione e di comunicazione direi che si va alla grande. C'è anche la disponibilità della connessione grazie all'ultra wide band. Questo vuol dire che con i telefoni purtroppo per ora solo i Samsung e i Pixel si potranno trasferire file come si fa con Apple, con Iotrop. Anche questo una novità importante. Per parlare di fotocamera direi di andare direttamente a vedere come funziona partendo dall'utilizzo della videocamera con le sue notevoli e molteplici funzioni. Ecco dunque come funziona il Galaxy Note 20 Ultra quando fate delle riprese, in questo caso stabilizzate. C'è un particolare da notare quando si utilizza la fotocamera stabilizzata, ovvero che potete passare dal grand'angolo alla ripresa, diciamo, normale semplicemente premendo sui relativi comandi sul display, ma non potete utilizzare lo zoom avanti e indietro come si farebbe normalmente quando invece non viene usata la funzione di stabilizzazione. C'è la possibilità di fare riprese anche in 8K. Segnalo che quando si utilizza la videocamera per girare video, il telefono si riscalda un po'. Ovviamente i video si girano anche con la fotocamera frontale, devo dire che la qualità non è quella della fotocamera principale, ovviamente però tutto sommato un buon livello di ripresa, in particolare vedete adesso non sono più in una condizione di quasi controluce, quindi sicuramente ripresa migliore. L'audio delle riprese video, diciamo, discreto. Anche il Galaxy Note 20 nella versione Ultra 5G ha la ripresa con il fuoco live che io sto utilizzando in questo momento, sto cercando anche di cambiare essenzialmente il tipo di effetto che c'è alle spalle, vedete ho accentuato forse eccessivamente il blur, in questo caso invece la ripresa con semplicemente il soggetto frontale a colori e tutto il resto invece che viene ripreso in bianco e nero, quindi potete cambiare la vostra scelta a seconda delle vostre preferenze, proprio anche in corso d'opera. Vedete adesso questa è la versione invece un po' più estrema, forse un po' troppo. Segnarò anche questa modalità di ripresa video, per cui mentre voi riprendete un video, vedete potete essenzialmente disegnare e l'oggetto che disegnate rimane collocato nel punto in cui l'avete messo. Questa diciamo che può diventare anche una soluzione carina, potete aggiungere volendo anche delle soluzioni di testo, cambiare il tipo di scrittura che viene fatta e che viene riportata sul video che state registrando. Devo ancora capire bene che tipo di utilità abbia se non viene fatta su un volto, ma tutto sommato diciamo che è una cosa carina. La stessa funzionalità può essere utilizzata anche, vedete, con le persone. Vedete in questo momento spostandomi, essenzialmente le mie corna si spostano insieme a me. Poi qui si tratta solo di trovare uno spazio per la creatività, potrebbero essere i capelli, nel mio caso, ad accompagnarmi. Guardate che ciuffo meraviglioso! Come vi dicevo all'inizio, il dettaglio da sottolineare è quello del surriscaldamento quando si usa molto la fotocamera. Guardando tra l'altro il risultato invece delle foto, bisogna dire che Samsung ha fatto un lavoro notevole. 108 megapixel nell'ultra di sensore principale. Dovete scegliere la selezione per i 108 megapixel per scattare con quel tipo di definizione. Avete uno zoom che arriva fino a 50x. Allora, diamo un occhio agli scatti. Questo è uno scatto con il grand'angolo. Quello che vedete adesso invece è lo scatto con, diciamo, la dimensione normale, no? Quindi la proporzione 1x, questo è uno scatto con lo zoom 5x e se arrivo addirittura allo scatto con il 50x vedrete che la definizione non è granché. Questa foto è stata scattata su un cavalletto ma, diciamo, è molto difficile riuscire a ottenere una buona qualità. C'è il mirino che vi aiuta a centrare il soggetto a 50 megapixel, però, insomma, diciamo che è più marketing che vera efficacia. Ma la qualità generale delle foto del Galaxy Note 20 Ultra è veramente superlativa. Tiamo un occhio anche all'interfaccia della fotocamera che è quella che ben conosciamo con moltissime opzioni per voi disponibili. Intanto quello dello scatto singolo introdotto con i telefoni precedenti, la fotografia, i video, e poi vedete il fuoco live, il video fuoco live, la modalità panorama, la modalità pro con cui voi essenzialmente potete gestire tutti i parametri possibili ed immaginabili. E poi ancora i video pro, anche in questo caso con la gestione di tutti i parametri del mondo, super slow motion, rallentatore e hyperlapse. Fotocamera che ancora una volta si conferma molto completa anche nelle varie opzioni che poi avete. Vedete, qui potete selezionare i 108 megapixel, se l'avete necessariamente tra l'altro l'uso della proporzione 4 terzi, oppure full screen o ancora la possibilità di usare i 16 noni. Ci sono i filtri, ci sono le foto in movimento e poi avete un miliardo di altre opzioni tra cui scegliere. Direi che a livello di software, quello della fotocamera è sempre stato un software molto completo, facile da usare, davvero, alla portata di tutto. Funzionalità della S Pen. Ci sono delle caratteristiche quest'anno che sono cambiate. Ad esempio c'è la possibilità di usare delle gestures da lontano. Io quando ho fatto l'esercitazione mi avevo preso l'esaurimento nervoso perché tentavo di fare i movimenti e continuava. Non è esatto, riprova. Però di fatto potete usare la S Pen, come succedeva già prima, per scattare un selfie senza bisogno di toccare la macchina fotografica. Avete le Air Action, quindi vi avvicinate al display e potete già governare alcune delle funzioni del telefono e poi quelle tradizionali, no? Per cui potete scrivere sul display, creare delle gif, potete eventualmente scrivere anche degli appunti semplicemente partendo dallo schermo spento. Avete la possibilità di fare i messaggi live. Abbiamo visto prima anche di disegnare sulla videocamera mentre girate un video. Davvero le possibilità della S Pen sono infinite. Adesso con l'aggiunta appunto delle gestures e di alcune funzioni che potete utilizzare anche quando siete lontani dal telefono. Ripeto, io trovo un po' strano abituarmi a questa posizione, però tutto sommato è solo una questione di tempo. Quando ci si allontana, come al solito, si ha l'avviso del fatto che ci si sta allontanando dalla S Pen. Se avete più S Pen potete combinarle anche con un unico telefono. La domanda è perché avete più S Pen? Ok. Insomma, la S Pen è una caratteristica che fa di questo telefono un telefono eccellente e il Note 20 non fa altro che confermare. Altre funzionalità importanti. C'è Android Auto, anche in modalità wireless. C'è Samsung DeX. Avete davvero un sacco di funzioni che possono trasformare questo telefono in un vero e proprio desktop. C'è anche il collegamento Windows che vi permette di utilizzare su un PC Windows l'unione, insomma, diciamo tutte le funzioni del telefono comandandolo a distanza. E da questo punto di vista l'unione tra Samsung e Microsoft è diventata ancora più forte perché adesso c'è la possibilità anche di avere l'Xbox Pass Gold Live tricche, tracche, bomba a mano non me lo ricorderò mai comunque una delle offerte che sono state fatte in questi giorni è proprio di avere mesi di accesso a Xbox Pass Gold Live quella roba lì insomma per diversi mesi. Quindi qualità eccellente software molto completo c'è veramente poco da dire a questo Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Batteria batteria, insomma, questo è un dettaglio importante il primo giorno mi è venuto un coccolone mi sembrava che la batteria si scaricasse guardando il telefono oltre al riscaldamento c'era questa batteria che scendeva alla velocità della luce probabilmente stava sincronizzando la qualunque dopo qualche giorno adesso si è stabilizzato e io diciamo che arrivo a sera ancora con un 30% residuo. Non ho usato questo telefono sotto rete 5G quindi non ho la percezione di quali possano essere i consumi e quanto possono aumentare i consumi con la rete 5G però bisogna dire che la batteria da 4500 mAh è sufficiente c'è la ricarica wireless c'è una ricarica super veloce anche grazie alla connessione cablata insomma nel giro di 30 minuti si arriva più o meno al 50% quindi tutto sommato bisogna dire che sul fronte della batteria non ci si può assolutamente lamentare. Super finalone super finalone per la recessione di Galaxy Note 20 Ultra 5G chi lo pronuncia velocemente per primo ne ha uno in regalo magari insomma questo è un prodotto bello completo con qualche difetto come tutti i prodotti che esistono sulla faccia della terra diventa probabilmente il punto di riferimento nel mondo di Samsung bisogna dire che sono stati risolti i problemi che c'erano con Galaxy S20 in particolare sulla fotocamera poi insomma qualche difetto lo riscontreremo nel tempo sicuramente nelle prossime settimane nei prossimi mesi ma ancora una volta il Galaxy Note 20 cari amici è il prodotto da battere